Il Pistoia Basket 2000 ha ufficializzato l'ingaggio del giocatore cieco Patrick Auda, 28 anni, ala di 206 centimetri. Auda è un giocatore dotato di ottimi mezzi fisici, duttile ed energetico che conosce già l'Italia, nell'ultima stagione protagonista dei play-off con la Sidigas Avellino. La parentesi avellinese è stata finora l'ultimo capitolo di una carriera che ha visto il giocatore lasciare presto la Repubblica cieca per completare la propria formazione cestistica negli Stati Uniti, poi un campionato e mezzo in Spagna e ancora Polonia. Fa parte della Nazionale della Repubblica cieca.